Cosa potrebbero mai avere in comune un laboratorio di analisi mediche ed un laboratorio di biosicurezza per la sperimentazione di agenti virali e patogeni su animali? Probabilmente il nome ed è per questo che è scoppiato il caso Biolab, un equivoco che da qualche settimana sta parte sta investendo l'istituto di ricerca Biolab, un laboratorio di analisi chimico-clinica sparse sul territorio pesarese per essere stato associato da diversi pazienti al laboratorio zooprofilattico BSL3, sempre intitolato Biolab, che dovrebbe sorgere nel quartiere di Torraccia a Pesaro. Abbiamo ricevuto alcune telefonate e segnalazioni dai nostri pazienti che chiedevano informazioni su il laboratorio che stavamo aprendo a Pesaro. Sono rimasto un po' sorpreso perché non stavamo aprendo nessun laboratorio a Pesaro, poi ho scoperto che si trattava di un laboratorio dell'istituto zooprofilattico che ha il nostro stesso nome Biolab. Biolab è un nome abbastanza inflazionato nei laboratori di analisi cliniche, ma ci occupiamo di cose totalmente diverse. Noi siamo un laboratorio di analisi mediche e facciamo analisi chimico-cliniche, come un ospedale per capirci. Il laboratorio che forse aprirà a Pesaro sarà un laboratorio legato all'istituto zooprofilattico e faranno analisi su animali. Da una parte l'assistenza medica ai pazienti, dall'altra la sperimentazione in vivo e in vitro di animali e la costruzione di allevamenti intensivi. Quello che si è venuto a creare è il più classico dei malintesi, due nomi identici ma attività e ricerche completamente diverse. Un'incomprensione che ha portato numerosi cittadini a telefonare a Biolab, lo studio di analisi chimico-cliniche per chiedere ulteriori spiegazioni. Pazienti che ci conoscevano ci hanno chiamato per chiedere a noi informazioni su questa struttura che sta aprendo pensando, ripeto, che fossimo noi. Erano preoccupati di questa cosa e volevano informazioni alla fonte.